Nuovamente in studio per parlare di politica con il nostro ospite con l'onorevole Davide Vasta di Sud Chiama Nord Onorevole Intento grazie per essere con noi Grazie a voi per avermi invitato Allora onorevole lei fa parte di questa squadra, di queste due squadre che arrivano all'Assemblea regionale siciliana con Cateno De Luca perché ha scelto di sposare questo progetto? Ho scelto di sposare questo progetto perché in Cateno rivedo un po' quello che per me è il modo giusto di fare politica la sua esperienza in campo amministrativo quello che è riuscito a fare nei comuni che ha amministrato sono stati per me quella spinta che mi ha portato a fare questa scelta sono amico di Danilo lo giudice, lo conosco da tanto tempo la sua esperienza al comune di Santa Teresa di Riva dopo l'esperienza fatta da Cateno come sindaco di Santa Teresa mi hanno detto che era il posto giusto per me che da imprenditore preferisco più il fare che il parlare ecco, adesso però c'è da affrontare l'impegno all'Assemblea regionale siciliana c'è qualcosa che la preoccupa? no, non mi preoccupa nulla l'impegno che ho lo sento perché comunque è una cosa importante so di avere alle spalle una squadra molto preparata tutto lo staff di Sicilia Vero e Sud di Chiamanord è uno staff molto preparato quindi so di avere e già ho avuto le giuste indicazioni e so di avere assolutamente delle spalle molto forti dietro di me ecco, a proposito di preparazione la vostra scelta che già comunque è stata ampiamente annunciata per quanto riguarda il ruolo che avrete all'interno dell'Ars vi vede protagonisti con il varo di un governo ombra ci può spiegare qual è l'importanza di questo governo ombra? allora, il governo ombra rinominato al governo di liberazione che è un po' più simpatico come liberazione è stato un po' il tema di tutta la campagna elettorale noi da opposizione comunque preferiamo portare avanti il nostro progetto cioè tutto quello che è stato detto in campagna elettorale i nostri dieci punti programmatici verranno tutti sviluppati e proporremo appunto col nostro governo di liberazione che studierà tutti i disegni di legge da proporre come se fossimo al governo quindi porteremo le nostre istanze allo stesso modo analizzeremo tutti quelli che sono i disegni di legge le proposte che verranno fatte dalla maggioranza con appunto dei tecnici quindi dei veri assessori di un governo parallelo e poi prenderemo le giuste decisioni faremo una posizione sicuramente costruttiva ecco, già è possibile indicare alcune priorità sostanzialmente i siciliani hanno dovuto aspettare più di un mese per capire quali sono stati i deputati eletti è normale nel 2022? no, sicuramente non è normale quello che possiamo immaginare è che la moneta di scambio giustamente con il dover comporre pure il governo nazionale la maggioranza è composta dagli stessi partiti la Sicilia è rimasta indietro perché prima bisognava risolvere dei problemi più grandi a livello appunto a Roma da parte nostra abbiamo già sollevato dei problemi abbiamo fatto la prima conferenza stampa un'inizia dei soprannominata dovevamo poi continuare ma purtroppo Cateno ha avuto questo malore che ci ha bloccato sicuramente per un paio di settimane rinviando comunque il proporre i nostri problemi avevamo presentato delle domande al presidente Schifani del quale ancora non sono arrivate le risposte sicuramente il problema del Cara Energia ma dei comuni, di tutti i comuni della regione siciliana che con l'aumento delle aliquote per lo smaltimento dei rifiuti difficilmente riusciranno a chiudere il bilancio questi sono sicuramente i primi problemi da affrontare Onorevole Vasta, un po' di riposo ci vuole anche per Cateno De Luca anche lui è umano il munizio dei invece rappresenta come dire un assaggio, un antipasto di quella che sarà questa legislatura per l'Arsa? Sì, per quanto ci riguarda appunto senza perdere tempo Cateno che dovrebbe riposarsi ora ci auguriamo tutti che un po' lo faccia perché per noi chiaramente fondamentale lui il giorno stesso che è stato programmato eletto come secondo, quindi come primo presidente non eletto ha immediatamente organizzato questa conferenza stampa e portato di quelli che sono i problemi poi di tutti i sindaci perché so, così come nella zona ionica etnea anche in altre sicuramente province siciliane che i sindaci si stanno organizzando per andare a Palermo a manifestare perché questo è un problema serio per i comuni E a questo punto il governo regionale non potrà essere sordo? No, il governo regionale deve necessariamente attuare quelle che sono delle strategie che già dovevano essere attuate col governo Musumeci che però, diciamo poi i risultati sono stati non soltanto in questo settore quelli di non attuare praticamente la maggior parte delle cose i problemi, da quello che sappiamo e che Cadena ha spiegato durante la sua conferenza stampa la risoluzione del problema era esisteva già, si è soltanto perso tempo finché poi ci sono state le nuove elezioni adesso il presidente Schifani darà siamo sicuri che darà delle risposte anche perché altrimenti il sistema comunale dei comuni implode Sostanzialmente questo governo di liberazione questo governo ombra, queste scelte parallele che cammineranno a quelle che saranno le decisioni prese dall'Aggiunta Schifani non rischia però di mettere in difficoltà non solo la stessa maggioranza ma anche le opposizioni? No, secondo noi no perché noi sostanzialmente porteremo avanti il nostro programma e analizzeremo con dei tecnici validi chiaramente scelti contando di analisi di curriculum e di esperienza sul campo quelli che sono tutti i provvedimenti, i disegni di leggi che verranno presentati e per poter fare poi noi un'opposizione costruttiva quindi non per mettere in difficoltà la maggioranza ma per migliorare qualora loro non avessero magari notato delle sfaccettature migliorare quelle che sono le loro proposte e così portare le nostre proposte quindi del nostro programma perché fare l'opposizione non significa aspettare che passano 5 anni e dire soltanto ma noi siamo all'opposizione e non possiamo fare niente noi siamo all'opposizione e portiamo avanti il nostro programma I siciliani da voi in questi 5 anni che cosa si devono aspettare? Da noi si devono aspettare un'opposizione fatta in maniera seria, concreta e soprattutto coerenza E non le sembra un po' un ragionamento da 5 stelle? Assolutamente no perché da noi, noi stiamo cercando di mettere dentro tanta qualità ci sono due tipi di opposizioni dico questo lo sappiamo è sotto gli occhi di tutti si può fare opposizione per ottenere qualcosa si può fare opposizione perché si vuole costruire qualcosa per tutti quanti noi facciamo opposizione per costruire qualcosa per tutti quanti il Movimento 5 Stelle diciamo che era partito così poi strada facendo si è perso non lo dico io lo dico nei risultati che hanno avuto noi manterremo la coerenza e l'impegno che ci siamo presi con gli elettori e siamo sicuri il nostro leader, Cateno De Luca per questo ci ha tutti indottrinato abbastanza bene Vi rivolgerete di più alla maggioranza oppure alle altre opposizioni? Queste sono delle scelte che farà sicuramente il leader Cateno perché sicuramente gli accordi politici esistono si fanno per ottenere qualcosa di buono e di positivo quindi queste sono delle dinamiche che ancora è troppo presto da poter sviscerare perché ancora bisogna incontrarsi pure per l'elezione del Presidente dell'Assemblea quindi ancora un po' prematuro ma siamo sicuri che Cateno avrà e saprà indirizzarci tutti nella giusta direzione per sempre portare avanti quelle che sono le nostre idee Onorevole Vasta, De Luca l'ha già detto comunque guarda quelli che sono i prossimi appuntamenti elettorali anche non solo Taormina ci sono anche poi le amministrative a Catani in altri comuni ancora ci sono le europee nel 2024 attualmente che discussione è in corso tra di voi per quanto riguarda anche altri comuni del Catanese? Ma noi Cateno sicuramente per Taormina se i taorminesi lo vorranno come dice lui riuscirà a fare un ottimo lavoro per dare quella marcia in più a Taormina che merita e che rilancerebbe non solo Taormina ma anche buona parte della provincia di Catania essendo molto vicini all'aeroporto catanese ma la costa è la costa catanese, anche quella messinese ovviamente l'obiettivo europeo è fondamentale ci saremo sicuramente come si sa siamo riusciti a costituire pure un gruppo al Senato quindi non ci sarà più la necessità di raccogliere le famose firme che nel caso dell'europeo è un impegno di poca importanza e di poca entità chiaramente le amministrative in provincia di Catania dobbiamo essere presenti abbiamo l'obbligo di impegnarci per cercare di mettere delle pedine in tutti i comuni si voterà anche a Riposto che è il mio comune Ecco infatti lei ha intenzione di candidarsi a sindaco di Riposto? Io gli impegni sono già sicuramente tanti come deputato dell'assemblea devo portare le istanze di tutto il territorio lo farò, mi impegnerò per tutti quanti però mi rendo conto che tanti ripostesi me lo chiedono me l'hanno chiesto andando in giro per strada nel mio paese quindi lo vivo tutti i giorni di fare qualcosa in più per Riposto anche di impegnarmi in prima persona se i ripostesi me lo chiederanno e me lo continuano a chiedere così a gran voce io sono disposto a scommettermi ulteriormente di nuovo un'altra volta e provarci Quindi sostanzialmente non è un no? Non è un no, è un valutiamolo tutti insieme E con chi, quando effettuare questa valutazione? Con la cittadinanza, con il gruppo che mi ha supportato è che deve continuare a supportare con il movimento quindi con Cateno, con Danilo il giudice, il nostro coordinatore Danilo già in un post ha espresso un po' qual è la sua direzione che sarebbe quella di candidare me io lo faccio, non voglio imporre la mia candidatura a nessuno nel caso se i ripostesi mi fanno sentire il loro calore io lo farò molto molto volentieri Ha Riposto sostanzialmente? Quali sono le criticità che a suo avviso dovrebbero essere affrontate immediatamente? Ma Riposto Il sindaco Caragliano ha sicuramente fatto nei primi anni anche un buon lavoro è un sindaco che comunque fa sentire la sua presenza purtroppo però parecchie opere sono rimaste incompiute il porto il bacino del porto comunale ormai da dieci anni forse anche più è rimasto così inutilizzato Riposto è un paese dalle potenzialità turistiche enormi che purtroppo non vengono sfruttate e gli imprenditori che potrebbero investire non investono a Riposto ma preferiscono ancora andare a investire a Giardini Naxos, a Tormina, a Citrezza, a Cicastello cioè comunque in paesi dove i servizi turistici sicuramente hanno avuto maggiore attenzione rispetto a Riposto Riposto è una cittadina ha forte vocazione turistica il porto turistico la vicinanza dell'Etna per Etna intendo quindi pure tutti i paesi pedemontani che offrono anche attività gastronomiche importanti Riposto deve essere l'hub poi per lo sviluppo di tutto il territorio circostante ma l'attenzione deve essere sicuramente diversa da quella che c'è stata negli ultimi 10 ma anche 15 anni perché sostanzialmente non è cambiato tanto Forse a partire anche da quelle che sono le infrastrutture i collegamenti da troppi anni si parla di questa rivalutazione della linea ferrata lungo l'asse Catania aeroporto meglio ancora di Catania fino a Taormina Sì anche dico tuttora io ho un made and breakfast quindi spesso vivo i problemi dei turisti oltre la rivalutazione della linea ferrata quindi i collegamenti con l'aeroporto si viaggia come praticamente sempre in auto con i problemi che ci sono pure sulla tangenziale ma quello è risaputo un po' da tutti anche la ferrovia circometnea è lato ionico etneo molto poco valorizzata direi quasi nulla praticamente utilizzata solamente dagli studenti che la mattina si recano dai paesi pedemontani nella città di Giare di Riposto che sono delle città fatte di scuole superiori quindi questo invece potrebbe essere un bellissimo servizio per i turisti quei pochi turisti che lo riescono a scoprire perché noi proprietari di attività alberghiere o extra alberghiere li indirizziamo ma potrebbe essere molto meglio valorizzato ma anche molto meglio curato magari utilizzando dei treni più nuovi più moderni collegamenti wifi ci sarebbe un mondo ma intanto è così complicato potenziare la frequenza delle corse? ma qua partiamo anche dalla cartellonistica cioè il turista che arriva a Riposto non sa che c'è la ferrovia circuito etnea quindi non sarebbe così difficile ma se pensiamo che non abbiamo neanche la cartellonistica immagino che chi deve pensare anche ad aumentare le corse e a pubblicizzare quindi a dare la possibilità al turista di conoscere che esiste un treno per le strade del vino ma sostanzialmente non è pubblicizzato da nessuna parte quindi il turista che vorrebbe prenderlo come lo dovrebbe scoprire E onorevole Vasta intanto c'è questo impegno all'ARS dall'Assemblea regionale siciliana come pensa Guardia dal suo territorio? Ma io ho già dato disponibilità ovviamente a tutti i sindaci a prescindere dal colore politico continuerò a farlo il ritardo purtroppo dell'insediamento poi ci ha fermato però chiaramente abbiamo aspettato perché c'erano riconteggi in corso quindi prima poi di andare a prendere tra virgolette impegni perché aspettare l'ufficialità era comunque corretto le istanze del nostro territorio le porterò a Palermo aiuterò come ho detto tutti i sindaci ripeto a prescindere dal colore politico perché l'obiettivo è quello che ho detto dal primo giorno e che ho detto a tutto il mio gruppo che altrimenti avrà che ridire giustamente è quello che dobbiamo cercare finalmente di riscattare questo territorio Lo sguardo quindi sostanzialmente non è rinviato ai prossimi 5 anni? No metteremo il massimo impegno in questi 5 anni e speriamo di riuscire a costruire qualcosa e siamo sicuri che ci riusciremo per poi fra 5 anni poter essere noi alla maggioranza e chiaramente avere poi una marcia in più per portare a termine tutte le nostre iniziative Una domanda sul porto di riposto Croce d'Elizia? Ma il porto di riposto io sono un appassionato quindi lo vivo anche da armatore di una piccola barca quando si è avuta la notizia della costruzione del porto turistico tutti pensavamo in uno sviluppo importante del paese così è stato purtroppo poi si siamo un po' bloccati strada facendo lo sblocco della parte comunale è fondamentale per completare quello che era il progetto iniziale e quindi dare poi la giusta importanza al porto turistico Quindi sostanzialmente il rilancio di quest'opera passa attraverso il comune? Sì, perché il porto è diviso tra la parte privata che è quella che è stata completata e partita e la parte pubblica quindi comunale gestione comunale non è riuscita a partire per dei difetti di costruzione dei pontili durante la fase appunto di costruzione poi lì si sono ingarbugliate le cose fino ad arrivare ai giorni nostri con ancora il bacino del porto inutilizzato non è neanche bello da vedere perché chiaramente è abbandonato quindi con tutto quello che poi ne consegue alla vista pure delle persone che passeggiano nel nostro lungomare e nelle nostre piazze Si sente di prendere un impegno su questo tema? Ma su questo il sindaco caraliano mi ha anche aggiornato e per questo lo ringrazio a quanto pare sono riusciti finalmente a sbloccare pure un recente sequestro fatto dalla Capitaneria di Porto quando fu fatta l'ultima rimozione dei pontili quindi a voce mi ha detto che a breve dovrebbero finalmente ricominciare i lavori del porto poi chiaramente l'appello che io ho fatto e che continuo a fare di seguire i tecnici, i dirigenti la politica deve seguire che questo venga fatto nella maniera corretta perché sennò rischiamo di nuovo di avere bloccato i lavori per l'ennesima volta perché sarà la quarta o quinta volta nel caso succedesse Noi ringraziamo l'onorevole Davide Vasta di Sud Chiamanord parlamentare all'Assemblea regionale siciliana parlamentare che è stato con noi grazie ancora adesso ci fermiamo per una pausa pubblicitaria ma torneremo subito dopo grazie a voi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti